Quando entri in classe devi leggere tutti i giorni, la tua classe, che sistema è, non è mai lo stesso e fortunatamente non è mai lo stesso perché i ragazzi ogni giorno sono diversi e tu non ragioni sul singolo, ragioni sull'interazione tra singoli e quindi ogni giorno devi fare in maniera tale che la tua lezione sia improntato su quel sistema in quel giorno, che può essere un sistema dove i ragazzi interagiscono con te, un sistema dove un ragazzo per esempio ha già messo la sua impronta perché è una cosa che arrivi la prima ora, è una cosa che arrivi l'ultima ora, quindi trovare sempre la modalità giusta per incentivare il loro ascolto, la loro comunicazione, quello che in quel momento con un gesto anche forte ti vuole dire.